I musei non si possono più chiudere alle 4 del pomeriggio, le ricordo, perché lei con la sua famiglia non vedrebbe più niente. Io li ho fatti aprire fino alle 11 di sera, certe volte a mezzanotte, le ho fatti aprire le festività, è chiaro che suscita proteste, ce ne faremo una ragione. Questo quanto aveva dichiarato nell'aprile 2017 il sindaco Brugnaro. Oggi però dall'opposizione in consiglio comunale arriva una critica pesante sull'operato degli ultimi due anni riguardo i musei civici. Nei prossimi giorni si darà applicazione ai nuovi orari dei musei civici di Venezia. Noi lo denunciamo ormai da più di un anno, purtroppo con il nuovo appalto che è entrato in vigore ci sarà una diminuzione degli orari. Per quegli estivi ci sarà una diminuzione degli orari la mattina, quindi apriranno tutti i musei dopo, tranne quelli dell'area marciana, mentre addirittura Casa Goldoni aprirà due ore dopo, quindi a mezzogiorno, quindi non permettendo di accedervi la mattina dove vi erano anche un sacco di attività. Non solo! D'inverno addirittura la situazione peggiorerà, quindi i musei chiuderanno mezz'ora prima rispetto agli orari attuali, cosa che contraddice assolutamente quanto aveva dichiarato il sindaco sia a questa rete televisiva ma così come in campagna elettorale che i musei non potevano più chiudere alle 4. In realtà i musei chiudevano alle 17 e adesso chiuderanno ben prima. Il PD non ci sta e chiede spiegazioni. Nel frattempo dipendenti e sindacati si sono riuniti per decidere il da farsi. Noi assolutamente contrastiamo questo tipo di scelta che riteniamo sbagliata non solo dal lato occupazionale, dello sviluppo ecoculturale e turistico, quel turismo ecobuono della città, ma anche e soprattutto dal lato culturale della questione.